Ehi, amico mio, ma che bello che sei, quanto mi piace! Eppure tanti dicono che sei come un alieno, un animale strano. Ma per me le cose strane sono alte. Sono le case occupate, i bambini strappati ai genitori, sono le mascherine parlatte, sono le persone che non vengono curate. Quando io vedo qualcosa che non va, io non riesco a stare fermo, indifferente. Indago, denuncio. A proposito, paghi l'affitto? Mario Giordano conduce in diretta. Fuori dal coro. La nuova edizione. Da martedì 7 settembre, in prima serata, su Rete4. Aspettatevi di tutti.